Ciao a tutti dal vostro SkiBam, oggi parliamo di un argomento che ho già trattato in altri video, ovvero la manutenzione degli sci, in particolare la manutenzione delle lamine, ma ahimè devo tornarci sopra perché mi capita troppo spesso di incontrare sciatori che le lamine non le fanno quasi mai o le fanno comunque troppo poco spesso. In questo video voglio spiegarvi appunto quanto spesso dovreste fare le lamine e voglio convincervi del fatto che sciare con degli sci con le lamine fatte è molto importante. E voglio anche spiegarvi perché voi non vi accorgete del fatto che le vostre lamine si stanno usurando e pensate che il vostro Ski tenga ancora quando in realtà il vostro Ski tiene molto meno rispetto a uno Ski fatto. Ora partiamo da questo argomento che ripeto è molto importante, perché voi non vi accorgete del fatto che il vostro Ski diventa sempre meno performante e tiene sempre meno, diventa sempre meno preciso? Perché l'usura delle lamine è progressiva e quindi voi non è che un giorno sciate con le lamine fatte e il giorno dopo sciate con le lamine tonde, il giorno dopo sciate con le lamine un po' più tonde, un po' più tonde, un po' più tonde, un po' più tonde o quanto meno sensibilmente meno performante, sensibilmente vuol dire che nel momento in cui fate le lamine poi vi accorgete della differenza, ma il fatto che voi sciate con questo tipo di Ski che è sensibilmente meno performante, a mio parere sarebbe una cosa da evitare. Perché? Perché voi sciate talmente poco, sciate 5, 10, la maggior parte di voi sciano 5, 10, 15, massimo 20 giorni all'anno, ed è un peccato sciare con uno Ski che sia sensibilmente meno performante. Poi attenzione, non stiamo parlando di una cosa eclatante, ma ripeto, anche il fatto, solamente il fatto di accorgersi che lo Ski è meno performante, vuol dire che stiamo sciando con un attrezzo che non ci dà tutto quello che potrebbe darci. E visto che sciate così poco, a mio parere è assolutamente da evitare il fatto di sciare con un attrezzo che sia anche solamente sensibilmente meno performante rispetto a un attrezzatura, a un attrezzo che invece sia stato appena preparato. Quindi per questo motivo voi pensate che il vostro Ski vada ancora bene perché tutto sommato lo sentite tenere, ma in realtà siete voi che vi siete abituati a un attrezzo meno performante e vi siete abituati gradualmente nel tempo e di conseguenza non vi accorgete di quanto meno performante sia rispetto a uno Ski. Il fatto, ve ne accorgete quando fate fare lo Ski, quando lo portate in laboratorio. Ora, veniamo quindi nel vivo di questo video, quanto spesso dovreste fare le lamine. Partiamo da chi l'attrezzatura ce l'ha, brevemente, perché in realtà questo video è dedicato a chi l'attrezzatura non ce l'ha. Ora, chi ha l'attrezzatura ha due opzioni, può fare le lamine con il diaface, quindi con la lima diamantata oppure con la lima vera e propria. Utilizzare il diaface è relativamente facile, è molto più facile rispetto a utilizzare la lima vera e propria, il diaface però è solamente in grado di ripristinare una lamina che sia già abbastanza affilata, che sia appena stata affilata a macchina oppure con la lima. Quindi il diaface va bene per una, due, tre, quattro, massimo cinque uscite, dopodiché bisogna rifare la lamina a lima. Da cosa dipende il fatto che bisogna rifarla dopo un'uscita o dopo cinque uscite? Dal tipo di neve. È ovvio che se io scio su nevi primaverili, dove al mattino è molto ghiacciata la neve, è molto dura, probabilmente col diaface la potrò fare una volta, massimo due. Quando invece la neve è naturale, invernale, se siamo in pieno inverno, è freddo, non c'è ghiaccio e la neve è naturale, allora posso anche rifarla cinque volte col diaface. Però questo più o meno è il range, difficilmente potrò farla col diaface dieci volte, a me non è mai successo. Di solito dopo quattro, cinque volte col diaface mi tocca di utilizzare la lima perché sento che la lamina, solo col diaface, non viene ripristinata come voglio. Il filo non è sufficientemente aggressivo, come piace a me. Veniamo ora a invece chi l'attrezzatura non ce l'ha e quindi deve portare in laboratorio di sci. Ha questa tipologia di sciatori che poi la maggior parte consiglio di far fare le lamine almeno ogni tre uscite. Quindi vi fate il vostro weekend lungo, ma anche il vostro weekend con due uscite, fate fare le lamine. Andate in settimana bianca, sciate i primi tre giorni, che ne so, lunedì, martedì, mercoledì, poi andate a fare, andate al laboratorio, fate fare gli sci e poi sciate giovedì, venerdì e sabato di nuovo con le lamine fatte. Questo numero, tre uscite ovviamente non è scolpito nella pietra, dipende anche qui dal tipo di neve. Se magari andate in settimana bianca e c'è neve bellissima, è appena nevicato, è sempre freddo, non sciate mai sul ghiaccio, e sciate sempre su neve naturale, magari potete anche sciare sei giorni, senza portare sei giorni consecutivi, senza rifare le lamine. Ma in questi anni è sempre più raro trovare questo tipo di condizione. E' molto più probabile sciare su nevi artificiali, che anche se non sono ghiacciate, sono molto aggressive e usurano tantissimo le lamine, anche se, ripeto, non sono ghiacciate, o addirittura sciate su nevi artificiali e ogni tanto trovate anche il ghiaccio, e allora ogni tre giorni sicuramente dovete ripristinare le lamine. Capisco benissimo che sia una rottura di scatole, sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista pratico di tempo, però alla fine della fiera poi non stiamo parlando di migliaia di euro. Se fare fare lamine sciolino al laboratorio costa, non so, 20 euro, e io scio 20 giorni all'anno, e porto gli sci ogni tre giorni, che vado a sciare, quindi 7 per 3, 21, quindi dovrò fargli fare sette volte, 7 per 2, 140 euro, insomma 140 euro rispetto alle migliaia di euro che spendete, che ci tocca di spendere, che vi tocca di spendere per sciare, non sono poi una follia e sono sicuramente ben spese. Da ultimo voglio proporvi un'opzione ibrida tra portare lo sci in laboratorio e farseli da soli. Questa opzione prevede di acquistare solamente una parte dell'attrezzatura, in particolare le morse, la squadretta e il diaface da 100, io vi consiglio quello da 100, che è quello più abrasivo, è quello che asporta più materiale. Con questa opzione voi potrete tutte le volte che andate a sciare fare i vostri sci, quindi acquisirete in fretta la manualità per fare i sci con il diaface. Il diaface non è così rischioso come la... non è così difficile da usare e non è così rischioso in termini di danni che potete fare lo sci rispetto alla lima, quindi il diaface si impara a utilizzare in fretta e inoltre lo utilizzate tutte le volte che andate a sciare e quindi acquisirete in fretta la manualità necessaria per utilizzarlo. In questo modo per 3, 4 o 5 uscite siete a posto, siete voi che vi fate gli sci e uscite con degli sci sempre perfettamente o quasi perfettamente fatti, dopodiché dopo, ripeto, 3, 4 o 5 uscite, il diaface non basta più e allora porterete gli sci in laboratorio. In questo modo potrete avere gli sci sempre fatti, sicuramente fatti meglio rispetto a non utilizzare il diaface e in ogni caso andrete a farli fare in laboratorio meno di frequente, potrete voi decidere quanto spesso in base anche alle condizioni di neve, magari in marzo-aprile con la neve ghiacciata andrete più spesso mentre invece se vi fate una settimana bianca magari a gennaio e c'è neve invernale bellissimo con ottime temperature e non uscite mai sul ghiaccio, magari non li portate proprio, vi fate tutta la settimana bianca semplicemente utilizzando il diaface e questo andrà benissimo perché, ripeto, la neve non essendo abrasiva non richiederà l'intervento del laboratorio. Quindi questa è sicuramente un'opzione ibrida che ritengo essere abbastanza interessante e il costo di quest'operazione è 150€ per acquistare, appunto, il 150-180€ per acquistare squadretta lima e squadretta viaface e le morse. Le morse che tra l'altro in alcune strutture sono già presenti nella ski room, nel caso in cui andate sempre nello stesso hotel e nella ski room sono presenti le morse già montate, non dovreste neanche acquistarle semplicemente con 80€, squadretta e viaface e siete già a posto. Bene, direi che è tutto anche per oggi, qui trovate altri due video se avete voglia di guardarli, schimbam.it per le analisi video, le lezioni di sci online e le lezioni di sci sul campo. Noi ci vediamo alla prossima, come al solito mi raccomando, casco il testo bene lasciato e gas aperto, sempre! Grazie a tutti!